Prima gioia stagionale per l'Avastesi è che la Ragona porta a casa i tre punti contro un abulico Fiuggi. Stivaletta apre, poi Dos Santos con una doppietta chiude i giochi. Ma andiamo per ordine, nei biancorossi Amelia manda subito in campo l'ultimo arrivato esposito, mentre Palumbo va in panchina. Nella formazione di casa c'è voglia di rivalza dopo il passo falso nel derby con il Giulianova. Medesima situazione e posizione di classifica per gli ospiti con Mister Incocciati che si affida un 4-4-2. Le due squadre partono al piccolo trotto, per vedere un'azione degna di nota bisogna attendere il quindicesimo quando Esposito viene toccato in area di rigore mentre si stava preparando per la conclusione. Il direttore di gara Castellone di Napoli lascia correre tra le proteste dei locali, da rivedere a rallent il dubbio contatto in area del Fiuggi. La Vastese si rivede dalle parti di La Gorga alla mezz'ora con la discesa di Stivaletta dopo un servizio sulla corsa di Cavuoti. Il numero 8 mette al centro un tiro cross che viene respinto in affanno dalla difesa ospite. Al 37esimo Slalom in area di rigore laziale da parte di Cavuoti che fa partire una conclusione che va di un soffio a lato. Minuto 43 occasionissima per Dos Santos che scatta in profondità e calcia di controbalzo, tiro ampiamente a lato. Al 46esimo ancora Biancorossi in avanti Bardini per Nella per Stivaletta, il capitano calcia di prima intenzione ma trova sulla sua strada un attento La Gorga. E questa l'ultima azione del primo tempo che termina sullo 0-0. Nella ripresa al secondo ci prova Esposito con la palla che va sopra la traversa dopo aver calciato da posizione favorevole su assist di Cavuoti. Un minuto dopo il giovane centrocampista Vastese va vicino al gol con un tocco ravvicinato. La Gorga si salva ma non può nulla sulla fucilata di mezzo esterno del numero 8 che indovina l'angolo giusto in una selva di gambe e porta avanti i suoi 1-0. Al dodicesimo Esposito servito dal neo entrato Palumbo entra in aria e calcia di punta. Il portiere respinge la sua conclusione da calcio a 5. Minuto 16 Palumbo fa partire un tiro cross pericoloso su cui il portiere razziale respinge distinto. Al ventiquattresimo tocco di mano in area di rigore del Fiuggi da palla proveniente da corner. L'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore. Ecco le immagini al rallenti. Sul punto di battuta va Dos Santos che fa 2-0. Non finisce qua. Il Fiuggi accusa il colpo. Palumbo incrocia con il destro. La Gorga respinge ma arriva ancora il numero 9 bianco-rosso che la spinge in rete per il 3-0 che mette in cassaforte il risultato. La formazione ospite per la prima volta va alla conclusione al 45esimo dopo un'azione manovrata e con palla calciata da Forgione che si stampa sulla traversa. Da qui alla fine non succede altro con la gara che termina così dopo 4 minuti di recupero. L'Avastese dopo un primo tempo sottotono nella ripresa confeziona la prima vittoria stagionale ai danni del Fiuggi. Troppo preoccupato a difendere più che a costruire. Laziali bene nei primi 45 minuti ma mai davvero pericolosi dalle parti di Bardini. Al triplice fischio è festa sotto la curva Davalos. M. Marco Amelia siete partiti contratti nel primo tempo, un po' di timore, forse retaggi della partita di Giulianova, poi è uscita fuori l'Avastese. Non è timore, è studio di capire come loro impostavano le loro azioni e poi io credo che anche nel primo tempo 3-4 situazioni di gestione palla migliore potevamo comunque arrivare già prima al gol. Poi al secondo tempo è stato tutto più facile perché siamo rientrati subito. Abbiamo fatto gol con Cristian che ha fatto un ottimo gol dopo un'ottima giocata di tutta la squadra. Poi mi è piaciuto lo spirito, quello che ho chiesto dopo il gol di aggredire subito. Dopo siamo ripartiti e abbiamo ripreso palla sia dopo il secondo che dopo il terzo gol abbiamo subito ripreso il possesso palla. Questo è lo spirito che deve avere la squadra perché siamo una squadra forte, siamo una squadra costruita bene, siamo una squadra che deve trovare la sua identità e attraverso queste piccole situazioni sicuramente può alzare il livello. Bene anche la prestazione di Esposito ma anche quella di Palumbo che quando è entrato ha fatto bene. Bene da parte di tutti, Esposito sapevo che probabilmente verso l'ultimo quarto d'ora poteva scendere di livello fisico però poi qualitativamente è talmente superiore che dal mio punto di vista non è un problema. Palumbo è entrato bene dopo una settimana per lui travagliata, si è aggregato a noi praticamente venerdì e nel momento in cui è entrato in campo iniziava subito a prendere le misure, l'ha fatto bene ma del resto ha giocato bene tutta la squadra. Abbiamo rischiato praticamente niente dietro, siamo stati bravi forse a parte una sbavatura al primo tempo dove è stato ammonito Pollace su un taglio a centro campo però per il resto tutto molto bene, possiamo ancora crescere, un'ottima vittoria. Per la gente che se lo merita perché anche oggi erano numerosi e questo deve essere la strada da seguire per poter andare a rosicchiare i punti dalle squadre che stanno lì davanti. Mister Incocciati, buoni i primi 45 minuti della sua squadra, poi nella ripresa è uscita la qualità della Vastese? Diciamo che noi abbiamo preso un gol evitabilissimo e ci siamo disuniti, d'altra parte la squadra è una squadra ancora giovane che alla ricerca della propria personalità Ero speranzoso perché il primo tempo potevamo incidere di più, abbiamo tenuto bene il campo e nonostante tutto siamo rientrati negli spogliatoi anche soddisfatti di ciò che stavamo facendo. Certo che in questo gioco bisogna tirare di più in porta, bisogna essere un po' più incisivi perché giocare magari bene e non produrre serve a poco. Noi non abbiamo prodotto, anzi abbiamo tra virgolette anche concesso, regalato perché se andiamo ad analizzare i gol sono semplicemente dei regali. Non siamo stati mai in difficoltà, certo poi quando abbiamo preso gol ci siamo disuniti e per noi poi è stata difficile, abbiamo subito degli infortuni uno dietro l'altro, ho dovuto fare delle sostituzioni un po' inaspettate e quindi la partita si è avviata in questo modo qua. Peccato. Siete a caccia della prima vittoria stagionale? Siamo a caccia della nostra identità, quindi insomma è il primo anno che noi facciamo questa categoria, i ragazzi è una squadra giovane, nuovi, ci vuole tempo, ci vuole pazienza e queste partite servono semplicemente a fare un'analisi profonda e capire effettivamente dove bisogna mettere mano.